Buongiorno a tutti, la versione mattutina di Tarocco spieggiata, perfetta, no? C'è proprio di andare in spiaggia, la Martina è già con Asca, sono le 11.15, però parto dopo pranzo, quindi andiamo verso la spiaggetta. Stiamo entrando in spiaggia, prima uscita stagionale in quel di Vivione, perfetto, ha fatto anche lo stadito qua, ci sono tutte le... Guarda, porti a sedere, porti a sedere, sono numeri, sono numeri. La spiaggia di Vivione, la spionta. Guarda il campettino, per vedere Tarocco vestito così, il campettino qua di calcio, no? Sono numeri. Asca a posto mia allora? Lo devo fare. Sto da posto ieri sera? Sai che su Facebook ti sei preso del numero uno? Si. Ma io so. E' che la Peclo ha detto invidia, ha commentato invidia perché la Martina ha detto a dove vedere Asca, com'è stato. Carisma a fiumi, personalità a manetta. 7 ore di indecisione per scamalcare. Siamo contenti perché la Martina e Asca non hanno deciso di andare su per far da mangiare per tutti. Pensate. E quando è pronto? Venite, è pronto. Sì, esatto. Dopo aver vinto a Carter. L'hiamo deciso di fare così perché siamo rompicoglioni. Stai venuti a rompicoglioni. Regolete. Perché? Dov'è la maglietta mia? Dopo aver vinto a Carter la Martina va a fare la partecipazione. Ascoltami Ale. Ti lo lasciamo qua. Ti lo lasciamo qua. Ti usiamo qua. Buu. Si dai. Si lascio. Sono arrivati a Casinia che la Martina sta facendo da mangiare. Biarettina fresca. Dreher penso di averla mai bebutta, sai Asca? Beh, non è che ci sta però. Si, ci sta molto molto bene, molto bene. C'è il caldo che viene a sopraffarci. Adesso fitta la birra. Fitta la birra vado di. Capsi twist. Stiamo parlando dei Gensharawi al Milan che faremo creare quest'anno. Il Mungol Gensharawi di che altro... Si, infatti Pazzini si chiara sempre lui e Bacotelli. Tanto Bacotelli le piace lavorare un po' da partito. Pazzini dentro l'aria. Stiamo aspettando studio sport. E poi lo metterà dentro, lo metterà dentro. Ci voglio, ci fa sempre. Il visuale appartamento è questo qua. Siamo al momento raminato. Quindi il primo giro avendo parrocchino. Abbiamo il problema. Abbiamo il problema che non abbiamo la penna per sognare i punti. Allora usiamo quel telefono. Buono. Senti come domani da fuori. Quanto paghi te? 54. Ma va. Quasi categorizzato, quasi. Tu com'è? Ma usca mezz'oretta non per niente. Meno. No, non è niente. Ma io dormi in macchina. Meno, 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 meno. 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 C'è Radio 105. Dalle 4 alle 18. Sì. Signore e signori. C'è Radio 105. Dalle 4 alle 18. Meno. 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 c'è anche lo stand della coca cola che praticamente poi partimenta delle street la scritta che vuoi adesso lo cerchiamo e cerchiamo a mettere la scritta ragazzi come sempre l'ultima maglietta vogliamo sentire l'urno di biviano allora il bilancio non chiude queste quattro domani mattina ciao a tutti ciao a tutti ciao cosa fai spapparanzato domani mattina alle 10 apre alle 10 alle 7 anche domani facciamo un diritto la gente che c'è in colonna lo fa non c'è no no cos'hai vinto? un po' chiaro beh c'hai i tuoi dati qua? non mi voglio c'è anche lo stand della durex che ti regalano liquidi lubrifianti e roba del genere questa scena qua c'è una bag speciale sui palco di sale zen i bag speciali i ragazzi non mi voglio non mi voglio i prodotti i prodotti non mi lascio incontri non mi lascio non mi lascio un po' le 50 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 io allora david magari ma sa già da sersi però questo lo diamo in mano a te ma perché abbiamo potuto ok sorridenti ragazzi allora siamo almeno uno del nostro stabile per andare a mangiare dopo andiamo ci andiamo a lavarci dobbiamo mangiare al cinema mare il galletto ve lo spionto sarà 10 minuti diciamo aiutarò a aspettare gli ascensori almeno uno quindi continua ad arrivare giù la gente però la gente non deve uscire qua e quindi ci guardano e fanno via e la sua scavo via noi siamo ancora qua continuiamo a schiacciare arriverà un ascensore prima o dopo Martina questo qua non me ne faccio niente Martina è un'altra persona ha stiamo guardando un po' di risultati su live score su live score sui risultati delle partite sono pronti a partire pronto a uscire il taro è quasi pronto siamo vestiti in un po' per fare ci andare a mangiare e andare a cena sono bagnato qua acqua in sua via abbiamo una fame il gallettino con il numero del galletto con la salsina perfetta sopra le domani mattina alle 10 dobbiamo andare a prendere coca coli perché lì in centro dove c'è uno stipendi di radio 105 apre alle 10 e quindi ci troviamo in colonna per farci una concola personalizzata penso di farvi come te ne legarono due una spasottami e una skype io poi regalo l'edina magari da facciare il contenuto da bellezza non le vediamo teniamo la tech in casetta per le sperimentate veramente qual è beh questo è l'hamburgo inter 1 a 1 e allora come lo vediamo ho visto? ho visto che sono stati caroni e sono stati e questo non è inserire e questo non è inserire serio? si stiamo con 4 galletti questi galletti con le verdure grigliate o con le patate fritte? patate fritte si siamo al momento di preparazione della firma da parte di Tarocco per il coltrato dei Gazaktikus quindi stiamo organizzando una situazione, forma intera, location siamo pronti per rinnovo di casa di Tarocco, sono un po' agitata c'è agitazione, c'è agitazione mettiti un po' più lì bisogna vedere che tu fermi e come fai a fermare? eh no, devi essere tipo girato da una parte firma in mano? dai noo vado Tarocco ha fermato? fa parte della squadra, ha posto ufficiale adesso vedi con le due veline 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 adesso decidiamo quale mettere la cosa da usare? no, da caldo c'è un caldo ragazzi, da morire stai con qua l'abbiamo fatta fuori quasi tutta è un caldo da cano che viene gente e non c'è un mio tosse da bea sono stati senza sapere di gente ma non è stasera proprio invivibile e allora stasera non si vive io in Francia abbiamo una piscina che ci passa avanti agli occhi come di raggi proprio è caldo Fran? è caldo Fran? ma fresca con una roda ma questa scela c'era la scelastina delle gadget praticamente per Daninto night party bevi un fernadito quindi una merda perché l'ho preso gli hanno gli occhiali eccetera Eccoli qua, gli occhiali, i camminati che bigliettano! Un po' di calma. Ho bevuto un cocktail imbevibile. Questo qua è per l'Elena Palma. Stante pizzeria, due palme. Due palme, però ti hanno copiato la scritta, l'insegna. Perché ce ne sono... Ah, ci sono disegnate due palme. Due palme. Sì, ah. Allora, sono appena... Ho appena scelto il dilemma. Se portarmi dietro la videocamera, la discoteca o no. Ho optato per il no. Per il fatto che... Uno c'è caldo, due ci sarà buio. Non riesco a fare nessun video. Non si vede niente più che altro. Se sto lì con l'iPhone per fare il flash, eccetera... Dopo si parte. Sì, ma questo caldo qua, butelle, una roba... Voglia di vivere sotto le scarpe. Ti manca la mia invigia. Ti spagate di più piano. Quattro, sei. Sto facendo. Quattro, sei. Sì